L'Italia del motocross ha un problema. Alex Lupino è velocissimo sul giro ma non sa partire. Noi siamo qui per risolvere la questione. Alex, ciao. Ciao. Perché non parti in testa? Non lo so neanche io, non ho una risposta. Forse ce l'abbiamo noi. Sì? Secondo noi, tu non hai riflessi pronti. Proviamo? Proviamo. Primo gioco, gli schiaffi sulle mani. Eh, non ci siamo. Uno dei sistemi per misurare i riflessi è la prova del martello. Vediamo se funziona. Ma secondo me no. Sei pronto? Prossima prova allo scatto da fermo. La sfida con il cane di Lupino 1. Sei pronto 1? Chi arriva prima a prendere la palla? Via! Hai uno! Alessandro, sei un disagio. Hai perso tutte le prove che abbiamo fatto, ma io lo so qual è il problema. Perché come tutti i supererai, devi avere una tua uniforme. E noi l'abbiamo trovata. Eccola qua. Chiesi Sparta, Gran Premio d'Italia. Questa, questa indosso, partirà in testa domani. Prova a prendere. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.